buongiorno splendori miei per me pomeriggio sinceramente non so da quante ore sono attaccata al computer ma so che ho bisogno di una pausa quindi ho pensato di farla con la nonna qua su questo divanetto devo ancora aiutarla a uscire e dunque alla nonna in genere non piacciono le sedute molto morbide infatti vedete che lei preferisce stare sulla sedia ogni tanto si si mette sul divano ogni tanto sulla poltrona ma raramente quindi quando le ho fatto provare questa questa seduta esterna non pensavo le sarebbe piaciuta più di tanto perché davvero molto morbida invece questa lei è piaciuta l'ha conquistata ci sta volentieri qua di pomeriggio quindi ora ci mettiamo un pochino qua anche perché oggi c'è un sole bellissimo aspettate ve lo faccio vedere guardate che sole che abbiamo oggi una meraviglia quindi un pochino dobbiamo godercelo ciao 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 Volevo bloccare il lenzuolo, grazie, per aprire i contenitori con le semine e volevo farvi vedere che queste qua, che sono quelle che abbiamo fatto in luna calante, che aspettavamo di sistemare con la prossima luna calante, in realtà ci stanno dando un po' di soddisfazioni inaspettate. Non pensavamo dopo l'attacco dell'arvicole, invece stanno crescendo. Questi topini ci hanno graziato un po' di vasetti. Magari qualcosa non cresce. Gli spinaci secondo me no. Gli spinaci è qualcosa forse. Li hanno proprio divorati. Le carote sono molto lunghe, da prima che germinano. E quelle non mi sembra che siano state toccate. Ravanelli sono i migliori. Sì, sì. Ma anche le bietole, le barbabietole, vedo. Sì, sì, sì. Guarda che meraviglia. E comunque in queste notti non credo che siano tornate le arvicole, perché questo contenitore l'abbiamo lasciato aperto proprio perché dovevamo risistemare e sta crescendo tutto. Comunque gli altri per sicurezza continuiamo a chiuderli. E non abbiamo fatto ancora i buchi. Non abbiamo ancora fatto i buchi, siamo scandalosi. Però lo stiamo sempre aprendo, quindi. Sì, stanno chiusi veramente poco. Il primo cavoletto sta a spuntare. No, cima di rapa. Piccolino. Bellissimo. Qua invece non vedo per ora nulla. E di qua, vediamo un po', c'è qualcosa che spunta. Sì, vedo i fagioli che stanno radicando, vedi lì. Sono usciti, qualcosa è uscito, si sono alzati. Poi per il resto ancora nulla. Piano piano. È vero, sì, 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 si vedono. Alcuni proprio si sono tirati su. Trovo nella parte del nuovo giardino dove abbiamo fatto la nuova recinzione per fare una scaletta che collega quindi la parte nuova del giardino alla zona dove ci sono le due piante di vite. Sì, vedo i fagioli. Sì, vedo i fagioli. Allora, amore mio, come sei messo con la scaletta? Bene, bene, manca solo un pezzettino e ho finito. Oh, che bella. Ormai sei un maestro delle scalette. Ti vengono benissimo, ci metti un attimo. Comunque, stamattina mi hai detto che poi dobbiamo togliere la parte di sotto, sì. Ok, prima di farlo, che dici se portiamo un pochino di sotto i ragazzacci che c'è Torca e un'anima in pena? Non so se lo senti, si mischia al canto degli uccellini. Ormai non si capisce più quali sono gli uccellini. Un mucchio di volte, Luca e Dio, ci domandiamo quando lavoriamo fuori. Ma questo è Torca? Piange o sono gli uccellini? Perché è un cane che comunica molto. È un mugugno. Mugugna per tantissimi... Manca solo la parola. Sì, lui si sforza proprio, lui vorrebbe parlare. E quindi si lamenta per tantissime ragioni diverse. A differenza di Flora. Sì, si lamenta in continuazione. Senti, adesso è dalla porta. Sì, ora vado da fronte. Vai, vai. Buongiorno. Come contenta anche a Flora. Buongiorno. Tu te guardano così tappi. Ma se Flora muugna così vuol dire che ha visto qualcosa il gatto. Ha visto Silvestrino magari. Siamo pronti? Questo nel linguaggio di Tor vuol dire muoviti, apri. Che dici Tor? Sono impaziente, non ce la faccio più. Attenti a dove mettete le zampe che lì c'è di tutto. Che salto. Eccomi. Abbiamo tolto, come vi avevo già anticipato in un altro video, questa parte di recinzione che avevamo messo l'anno scorso per i cinghiali. Ma adesso che c'è questa staccionata non serviva più e così è decisamente più bello. Bellissimo. Ora lì vabbè c'è un po' da sistemare. Si farò dei mini terrazzamenti dove poi andremo a mettere della lavanda, rosmarino, comunque piante che si autogestiscono. E quindi bisogna immaginarlo tutto bello pieno di piantine fiorite. Sono proprio soddisfatta. E comunque tutto quello che abbiamo tolto, come al solito, non andrà sprecato perché Luca sa già come riutilizzare tutto quanto nell'orto. Allora sono vicina al luogo del peccato, ormai lo chiamo così perché il pollaio ce lo stiamo trascinando dietro da tantissimo tempo. Abbiamo ricevuto anche tante domande in merito alla situazione del pollaio, se era successo qualcosa. No, non è successo nulla, solo è rimasto qua. Anche perché poi con l'inverno non abbiamo più fatto niente. Sì, abbiamo voluto ragionare un po' su alcune cose, comunque di questo ve ne ho parlato in un altro video. Morale della favola, non manca tanto. Questo ve lo assicuro. Appena riusciamo a trovare un paio di giornate proprio libere perché ci servono delle giornate pulite dove non dobbiamo fare nient'altro, concluderemo questo. E non vedo l'ora, guardate perché veramente è la storia infinita sto pollaio. Comunque non sono qua per il pollaio, ma sono qua perché sto raccogliendo, ecco la metà mi è caduta praticamente, vabbè, un po' di amenti che sono le infiorescenze maschili del nocciolo. Allora, qualche giorno fa mi è capitato per caso un video del programma di Antonella Clerici, quello su Rai 1. Ora non ricordo il nome perché noi seguiamo pochissimo la televisione, guardiamo praticamente solo il gioco alla sera. Non so che programma, una volta c'è la prova del cuoco credo. Non so se è ancora quello, se è cambiato nome. Comunque mi è capitato su YouTube un frammento di quel programma in cui c'era insieme ad Antonella Clerici un'altra signora che chiamavano la cuoca selvatica perché appunto spiega come utilizzare in cucina tutte le erbe che si possono trovare nell'orto, nei boschi eccetera eccetera e in quella puntata che mi è capitata parlava proprio degli amenti del nocciolo. Ora, io non sapevo si potessero mangiare, non sapevo si potessero utilizzare in cucina, quindi è stata una scoperta bellissima. Dopo aver visto quel pezzetto di video che era molto breve ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che si possono utilizzare per creare delle granole cosa che voglio assolutamente provare a fare, si possono utilizzare pastellati per creare delle frittelle cosa che voglio fare proprio oggi, è una delle ricette che mi incuriosisce di più. Poi si possono utilizzare per decotti, infusi, insomma si possono utilizzare in tantissimi modi e anche per, e questo sarà un esperimento non so se mi verrà, per creare una birra casalinga. Proprio la cuoca selvatica aveva portato questa birra e ha anche spiegato come si fa, quindi ci voglio provare e uno degli ospiti che era lì presente al programma l'ha assaggiata ha detto che era praticamente simile a quella acquistata. Sono curiosa, sono curiosa, ma a me non piace la birra quindi la preparerò per Luca e la farò assaggiare a lui perché io non la bevo, è proprio una cosa che non mi piace molto e quindi sono curiosa perché sarà il primo fermentato che proverò a fare perché non ho mai provato a farlo in casa e la cosa mi incuriosisce veramente tantissimo. Comunque, ho letto che si possono raccogliere praticamente in tutte quante le fasi, solo che quando sono più chiusi sono più amari. Quando sono più aperti, come nel nostro caso, sono più dolci perché hanno più pollini all'interno e quindi hanno anche più sostanze buone. Ciò che otterremo avrà molti più benefici. Cos'altro volevo dire? Ah, ecco sì, l'ultima cosa che ho letto molto importante una volta raccolti non vanno lavati prima dell'utilizzo perché se li laviamo cadono tutti i pollini e quindi tutta la parte interessante della mento si sparisce ma penso anche a livello di sapore, sia proprietà che gusto svaniscono quindi mi raccomando raccoglieteli da una pianta che sapete essere non trattata. Sì, sì. Quindi magari una pianta appunto del giardino come nell'orto, come nel nostro caso. Nel bosco. Esatto, nel bosco e così via. Insomma, vediamo un po' cosa salta fuori da queste infiorescenze. Ho fatto una normalissima pastella e adesso metto gli amenti. Vediamo un po' come vengono queste frittelline. Sono molto curiosa e comunque incredibile come la natura riservi continue sorprese. Ogni anno scopriamo cose nuove e cose che non avrei mai pensato di scoprire. Infatti prima mi guardavo intorno e dicevo chissà quante altre cose sono commestibili e io non lo so. Magari poi tra un po' lo scoprirò e le assaggeremo insieme. Però con le piante bisogna stare sempre molto attenti. Ne ho fatte poche perché non avendole mai assaggiate non sappiamo poi se ci piacciono oppure no. L'aspetto bello e anche il profumino è molto invitante. Ah, una cosa che prima non vi ho detto, io ho fatto delle fritteline salate. E ora passiamo all'assaggio. Molto curiosa. Calda? Mmm, ha un gusto delicatissimo. Sì. Ricorda però un po' la nocciola. Allora, infatti, sento un gusto che poi è molto leggero, non è forte. Però buono. Molto. Il pomeriggio l'ho passato interamente qua nel mio studio e avevo parecchie cose da fare, da sistemare. Nell'ultimo periodo, come vi ho già anticipato, mi sto concentrando su alcuni progetti per voi a cui sto lavorando con Luca e che reputo bellissimi. Mi auguro che poi quando usciranno e saranno tra le vostre mani anche voi li reputerete così, ovvero bellissimi, lo spero davvero con tutto il cuore. E comunque ho fatto solo una piccola pausa oggi pomeriggio, quando è arrivato un pacchetto. Tra l'altro, un pacchetto che non aspettavo, quindi è stata una vera e propria sorpresa. Una di voi, Silvia, che ringrazio tantissimo, ci ha inviato questo manuale sull'orticello di casa. Io e Luca lo leggeremo sicuramente molto volentieri. Avete visto che nell'ultimo periodo abbiamo acquistato un po' di libri che parlano appunto di orto, di piante, di giardino, quindi questo entra con piacere nella nostra collezione. Stavo anche pensando che devo trovare una zona o del mio studio o della sala dove mettere proprio tutti i libri che parlano di piante, perché al momento non ho una zona precisa per questi libri e quindi sono sparpagliati qua e là in mezzo a libri di narrativa. E a volte poi risulta difficile trovarli. Comunque, Silvia, oltre a questo libro, ci ha scritto anche una lettera bellissima in cui ci ha chiesto scusa per la copertina che è un po' rovinata. È rovinata perché questo libro è stato utilizzato per tanti anni da lei e dal marito quando facevano appunto l'orto nel giardino. Adesso purtroppo non lo possono più fare, quindi non l'hanno più utilizzato. Ecco Silvia, adesso mi rivolgo direttamente a te. Non ti devi assolutamente scusare per questo, anzi per me è un valore aggiunto, perché sapere che è stato utilizzato da te e da tuo marito rende questo libro ancora più speciale. E quindi lo guardo proprio con occhi diversi perché so che questo libro è passato prima dalle vostre mani, ha aiutato voi con la vostra terra, ora aiuterà noi e nelle nostre mani, insomma, lo trovo un passaggio bellissimo. Quindi la copertina mi va benissimo così, anzi mi fa proprio piacere che sia così. E niente, detto questo, Luca è andato a ritirare l'ordine che abbiamo fatto la settimana scorsa, poi ve lo faccio vedere. Allora, Luca mi ha detto quasi quasi potremmo montare tutto quanto questa sera, perché non vede l'ora di vederlo montato con la luce del giardino accesa, perché quando tornerà sarà già buio, insomma è già tardi. Però non lo so se ci imbarcheremo in quest'impresa questa sera, perché non ho idea di quanto sia difficile da montare questa cosa. Comunque lo faremo stasera o domani mattina. E praticamente tutti avete indovinato di cosa si tratta. E tra l'altro volevo ringraziarvi anche per i consigli che ci avete dato per quel pozzo in cemento che c'è fuori. Li abbiamo letti tutti e adesso vediamo un po' che cosa fare, cosa scegliere. Sono le sei e mezza e quindi vado a mettere sulla cena. Il gioco non è ancora iniziato, quindi volevo mettere alla nonna, così me lo guardo un pochino anch'io, su Rayplay, una serie che ci avete consigliato voi su Instagram, che se non erro si chiama Gloria, quella con Sabrina Ferilli. E me l'avete consigliato, anzi o meglio, me l'hanno consigliato i veterani del canale, perché si ricordano che a me piace molto Sabrina Ferilli. E in genere guardo tutte le serie dove c'è lei. Non avevo visto che era uscita questa e per fortuna voi me l'avete detto. Sì, Gloria. Allora, eccola qua così. Iniziamo a guardare e vediamo se piace sia a me che alla nonna. Alla fine sì, abbiamo deciso di montare l'oggetto che misterioso non è più. Eccolo qua, è un dondolo questa sera. E no, si vede che è buio, si vede. Perché ogni tanto questa videocamera illumina bene anche quando è tardi e fa sembrare il cielo più chiaro di quello che è, ma adesso no. Si vede che... E comunque abbiamo preso anche un post-cena quest'anno nella cena per rendere questo momento un po' più piacevole. Anche perché devo essere sincero, l'avevo un pochino, la voglia di montare l'ora è calata. Ma dai, non dovrebbe essere... No, non dovrebbe essere complicato. Dovrebbe essere... Le ultime parole famose in teoria, mi immagino, pochi passaggi. E di regola sì, a vederlo così, però... Vabbè, ora lo scopriremo. Vabbè, ora lo scopriremo. Vabbè, ora lo scopriremo. Si sta bene, anche se fa un freddo adesso. Vabbè, dormire qua? No, io no, io sto sognando il mio lettuccio caldo con i tortellini addosso a scaldare. Ora arriva il petto forte. Le chiavi non garantirò di su. Vai, vediamo cosa ne pensano i ragazzacci. Ecco lì. Non si sono accorti di niente. Scusa. Ai, ai, adoro. Qualcuno vuole salire. Flora invece ha trovato quelle due patatine che mi sono cascate prima. Lei è più interessata alle cose concrete, al cibo. Vediamo, nonna, se noti qualcosa di diverso qua fuori. Eh, sì, c'è tutto diverso. Beh, tutto. Un po'. Che bello, 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 bello. Solo che sono ubriaca. Cos'hai fatto stanotte? Ma io che lo so. Sei andata a far festa. Ieri, quando l'abbiamo montato, non c'era una luce bellissima, quindi non sono riuscita a farvi vedere bene bene questo dondolo. Stamattina invece posso farlo. Comunque noi abbiamo scelto questo modello. L'avrei preferito beige, vi dico la verità, ma c'era solamente nero e quindi l'abbiamo preso nero. Per la maggior parte di voi, molto probabilmente, questo sarà solo un dondolo, ma per me e per Luca è qualcosa di più. Perché ce l'ha un significato molto importante, ovvero che tutti i sacrifici alla fine vengono ripagati. E perché dico questo? Perché dal momento in cui noi abbiamo puntato questa casa, quindi dalla prima visita, per cui prima ancora di fare una proposta, prima ancora di sapere che quella proposta era stata accettata, prima ancora di parlare, insomma, prima di tutto, noi c'eravamo immaginati in quest'angolo della casa un dondolo, proprio qua, l'abbiamo sempre immaginato in questa zona. Solo che poi, ovviamente, le priorità erano altre e il dondolo è sempre stato messo in secondo piano. Non abbiamo parlato spesso, però c'erano tante altre cose da fare, molto più importanti, quindi abbiamo dato la precedenza a quelle. Vi dico la verità, forse abbiamo rimandato anche un po' troppo, perché non è che questo dondolo abbia questo costo così eccessivo, proibitivo, assolutamente no. Però abbiamo sempre preferito fare spese diverse, un po' meno legate solo al semplice relax, al semplice piacere esterno, ma che avessero anche per noi un'utilità maggiore. Ecco, comunque, alla fine è arrivato e proprio ieri sera, mentre lo montavamo, pensavo a tutto quello che abbiamo fatto, a tutto quanto. E ho provato un senso di gratitudine infinito per essere arrivata a questo punto. Non ve lo so nemmeno descrivere a parole, vi dico la verità. E questo comunque mi ha dato anche tanta carica per impegnarmi sempre di più, per avere sempre ben chiari nella mia mente i miei obiettivi. Lo so, sto spaziando molto con gli argomenti rispetto a quello di partenza, ovvero il dondolo. Comunque, per noi ha un bellissimo significato e sono sicura che lo sfrutteremo tanto, tantissimo. Anche la nonna, secondo me, perché lei è sempre stata un'amante dei dondoli. Avete visto che stamattina l'ha subito provato con piacere. Ah, chi mi ha raggiunto? Ah, come si sta? Sta meglio ieri sera, come temperatura. Cosa sentono le mie orecchie? Io stavo per dire. Ma si vede che il montaggio mi ha scaldato. Ma se questi tubi erano ghiacciati, io avevo le mangiate gelate. Era un po' più coperto ieri sera. Aspetta, non dondoliamo troppo, che magari poi nel video dà un senso un po' di nausea, tipo effetto nave, non vorrei che risultasse quello. E no, com'è stato per te quindi il montaggio? Io stavo dicendo notturno, ma in realtà serale, perché non era notte. Allora, le istruzioni pessime. Sì. Però l'inizio è stato un po' più difficoltoso, poi andando avanti... Sì, perché le istruzioni praticamente sono state divise male. E la prima parte, che era la struttura principale, era in un foglio solo. Quindi lì è stato un po' difficile capire esattamente da dove partire, dove... E poi capendo bene il procedimento, poi siamo andati un po' più velocemente. E il fatto che l'abbiamo fatto di sera, ha cambiato qualcosa per te? Meglio, guarda, sono contento di averlo fatto ieri. Quello anch'io, perché stamattina... Sì, sono libero, se no ci avrebbe occupato gran parte. Eh, comunque ci abbia messo alla fine un'oretta. Eh, un'oretta e mezza, più o meno. Sì, più o meno un'oretta e mezza. E niente, con questo io vi ringrazio per essere stati con noi. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi abbia dato qualche idea, insomma, e vi abbia fatto qualcosa di buono. Vi mando... Anzi, vi mandiamo... I tuoi baci sono sempre molto apprezzati e commentati. Un bacio grandissimo e ci vediamo, come sempre, nel prossimo video.